Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti sono state sequestrate dalla Polizia di Stato di Pesaro e Torino. L'operazione ha tratto in arresto due cittadini albanesi di 32 e 19 anni, responsabili di illecita detenzione di oltre 25 kg di marijuana. La sostanza stupefacente era custodita a bordo di una Fiat 500 L presa a noleggio su cui viaggiavano i due. Secondo l'indagine, i cittadini hanno prelevato il quantitativo da un deposito per poi effettuare una consegna nel capoluogo piemontese. Attraverso un'analisi dei dati telematici, gli agenti della mobile hanno ipotizzato il luogo dove i due si erano approvvigionati della sostanza, ovvero la località di Gabicce Monte, in provincia di Pesaro. Dopo accertamenti e verifiche, la mobile ha individuato un altro soggetto albanese, residente a Gabicce, che aveva rifornito gli arrestati, nonché il luogo dove era conservata la marijuana. Effettuando una perquisizione domiciliare del sospettato, sono stati rinvenuti numerosi involucri imballati con cellofan, contenenti complessivamente quasi 500 kg di marijuana e 40 g di cocaina. L'uomo immediatamente ha richiesto se detenesse della sostanza stupefacente, ammetteva di averne in po' e in parte consegnò al personale della cocaina e della marijuana in piccolo quantitativo. Logicamente questa era una mossa per tentare di eludere un controllo più approfondito della sua abitazione, mossa a cui il personale intervenuto non cadeva, e all'estero della perquisizione che era stata estesa sia alla palazzina in cui abitava che nella palazzina attigua e disabitata, venivano rinvenuti circa 500 kg di marijuana, confezionate in borsoni che vedete alle mie spalle, oltre poi a quella cocaina inizialmente mostrata che corrispondeva a quantitativo di circa 40 g. L'uomo è stato arrestato e attualmente è a disposizione della procura della Repubblica di Pesaro.